Vai Mi schermazione, ho un parente qui in casa Peccato perché in questo momento era andato in vantaggio però nel secondo tempo in cui la vivo è stata molto bella La differenza in Italia è stata bella Purtroppo noi stiamo giocando in Italia Abbiamo girato tre giorni fa in campo Non è perso ancora nulla, c'è sempre la gara di ritorno Sicuramente andrete lì, in cima a caldo Nessuno che i tifosi della vivo sono venuti anche qui Non si sta a basso E di solito queste domande fanno un passo più Sicuramente non vogliamo niente Andremo lì per fare il risultato È giusto che siete così Non è che un 2-1 in casa ci può dire qualificarsi Possiamo fare bene, abbiamo tutti i numeri per farlo Posso cercare di recuperare qualcuno in questi 3-4 giorni Spero di andare in via